Ciao a tutti da Trattoria Sportiva, eccoci qua per il post partita Monza-Gena, finita 1-0 per il Gena, il Gena che porta a casa altri tre punti e siamo già a quattro dopo due partite. Prima però di partire il post partita vi ricordo di iscrivervi al canale, mettere mi piace e commentare anche voi la partita di oggi del Gena. Allora partiamo col Gena, il Gena che oggi si schierava in campo con il titolare Pinamonti con dietro Vitigna, partita molto scorbuttica, non una gran bella partita da parte di tutte e due le squadre, un Gena un po' più sottotono rispetto a quello visto con l'Inter che però riesce a sbloccare la partita con un assist di Sabelli e col colpo di testa di Pinamonti subito in rete col Gena. Partita che guardando i numeri il Gena ha comandato nel primo tempo come tiri in porta, nel secondo naturalmente il Monza ha provato a recuperarla e ci ha provato di più e ha avuto la grande occasione con Caprari con quel palo fortunoso perché comunque era un cross dove poi Gollini per sua fortuna si è ritrovato la palla tra le mani, rischia tra l'altro di buttarsela in porta ma è riuscito a prenderla. Quindi una partita a dir poco modesta da parte di tutte e due le squadre, ma però una squadra ci ha messo più grinta, ci ha messo il gruppo, quel gruppo che ne parliamo da quest'estate ed oggi è di nuovo uscito fuori il gruppo, la grinta e il sacrificio di questi ragazzi perché oggi nel finale il Gena praticamente giocava con due giocatori che non ce la facevano più, c'era Zanoli infortunato e speriamo che non sia nulla di grave, Messias che correva ma non riusciva neanche più lui a correre da quante energie aveva sprecato e anche Vasquez eroico non ce la faceva più, ma il gruppo e la grinta di questa squadra ha fatto sì che il Gena oggi portasse a casa tre punti, tre punti veramente veramente importanti contro una squadra diciamo più o meno dello stesso livello del Gena, forse un gradino sotto quest'anno rispetto all'anno scorso, però il Gena è sembrato più squadra, il Monza meno, non è sembrata una squadra il Monza oggi, hanno girato parecchio a vuoto, alla fine della favola a parte il palo di Caprari poi grosse e grandi occasioni il Monza non le ha avute per pareggiare questa partita, ha fatto sì tanta confusione là in aria con tutte queste palle messe in alte per Diuric eccetera eccetera, ma alla fine la difesa del Gena ha risposto bene, con tranquillità, un Gena che ha aggredito quando doveva aggredire, ha rallentato o ha subito quando doveva subire, ma è un Gena che con poco ha portato a casa i tre punti e questo sicuramente fa ben sperare, fa ben sperare perché il morale continua a crescere, adesso c'è un'altra partita importante col Verona in casa dove potresti veramente fare un bel filotto e soprattutto perché si è visto sul gol di Pinamonti c'è un gruppo veramente importante, l'esultanza di Gilardino è stata incredibile, è un'esultanza pazzesca per il gol di Pinamonti, però forse tutti o quasi tutti abbiamo un po' criticato la scelta di Pinamonti perché ce lo ricordavamo in quell'anno dove è veramente stato imbarazzante. Diciamo che oggi a parte il gol possiamo dire che Pinamonti non ha fatto tantissimo, però è il giocatore ideale per il gioco di Gilardino, quindi quando effettivamente Pinamonti entrerà in forma perché comunque è la prima partita, è arrivato dalla settimana, noi si poteva pretendere chissà che cosa, secondo me avremo un gran giocatore là davanti, potremmo avere un giocatore che potrebbe andare tranquillamente in doppia cifra. Chi ha giocato forse un po' peggio è stato Vitigna che sì, sul gol è anche merito suo perché è andato a pressare l'avversario che è andato in confusione e ha sbagliato il passaggio regalando la palla a Sabelli, però bisogna dire che da Vitigna ci si aspetta di più, ci si aspetta di più, non è stata una gran partita di Vitigna e infatti nel primo tempo, a parte il gol, ripeto, c'era molto distanza tra l'attacco e il centrocampo, si è visto, si è visto proprio la difficoltà del Genoa di attaccare, il Genoa andava praticamente ad attaccare a folate con ripartenze cercando di colpire il Monza quando era più scoperto, inserendo tra le linee Messias, perché Vitigna non ha fatto una gran partita. Però chi non è entrato benissimo un po' sono stati Torbi e Malinowski, molto fallosi, probabilmente entrati con l'idea di interrompere frequentemente il gioco, cioè creare confusione, creare falli, bloccare le azioni del Monza. Torbi tra l'altro si è divorato un gol incredibile, però potevano entrare leggermente meglio, soprattutto da Malinowski ci si aspetta qualcosina di più. Il Genoa però, ripeto, è questo, è un gruppo, soprattutto è un gruppo solido e forse e questo sta facendo veramente la gran differenza in questa squadra. Adesso bisognerà vedere l'entità degli infortuni di Bani, di Zanoli e di Pinamonti, perché se fossero problemi lunghi il Genoa dietro rimarrebbe un po' scoperto, ma anche sulla fascia non avrebbe tutti questi gran ricambi. Quindi, perché lo sappiamo, Norton è infortunato, vediamo quando potrà rientrare. Per fortuna che poi ci sarà la sosta, quindi dopo Verona ci sarà la sosta, quindi magari si avrà il tempo per recuperare questi giocatori. E speriamo in qualche colpo di mercato, anche se ho il presentimento, che il mercato del Genoa, con l'arrivo di Miretti, mi sa che sarà concluso così. Però, vediamo, se hai fatto il nome di Berardi, qualcuno dice che è pazzia, qualcuno dice che è vero, vedremo poi alla fine che cosa si tramuterà. Per il resto, poco da dire, ripeto, una gran prestazione, soprattutto un grande gruppo e soprattutto una grande grinta da parte di tutti. Questo è quello che vuol vedere il tifoso del Genoa, cioè grinta e cuore, e oggi si è rivisto grinta e cuore come con l'Inter. Magari si è giocato un po' meno, si è giocato peggio, però questo è quello che volevamo vedere. Questo l'abbiamo visto e abbiamo portato a casa i tre punti. Quindi adesso sotto col Verona è chissà, magari sette punti dopo le prime tre partite. Penso che nessuno se lo sarebbe sognato e magari potremmo anche arrivarci. Ma vediamo Verona, un'altra partita complicata. Abbiamo visto il Verona con il Napoli. Quindi Verona che è un'ottima squadra. La vedremo qua a Marassi, come si comporterà. Intanto godiamoci questi quattro punti e pensiamo alla prossima e speriamo di recuperare più giocatori possibili e che i loro infortuni non siano così gravi. Da Trattoria Sportiva è tutto. Ci sentiamo alla prossima. Probabilmente alla prossima non ci sarà la live perché in teoria sono in ferie. Sono in Sardegna, quindi non dovrei riuscire a fare la live. Non so neanche se riuscirò a vedere la partita. Ve lo saprò dire se ci sarà la post partita. Da Trattoria Sportiva è tutto. Ci sentiamo alla prossima e ricordatevi di iscrivervi al canale. Ciao a tutti!